Va benissimo, l'Italia ha vinto, ho tifato, ho visto la partita, siamo tutti contenti, evviva l'Italia! Va bene che abbiamo trasformato It's coming home in It's coming home, va tutto bene, che poi non ho capito perché gli inglesi dicono It's coming home, che cosa dovrebbe tornare a casa? Che cosa doveva tornare a casa? Il calcio! Il calcio! Va bene, il calcio l'hanno inventato loro, va benissimo, ma certamente non l'euro vero, non l'hanno mai vinto, quindi che significa It's coming home? Va bene, l'abbiamo trasformato in It's coming home, va bene prenderlo in giro, fa parte del calcio, fa parte degli sconfitti, va bene, va bene, però questi ridi collettivi, questi abbracci, questi baci, questi ammucciamenti, questi attaccamenti, senza mascherina, ma anche no, guardate che se stavolta rigiudono tutto, sarà un disastro evocale, ho capito che questa è una scusa per chiudere, la troveranno sempre, però ahimè, questa volta vi sa che la scusa gliela stiamo fornendo noi sul piatto per gente.